bravo bravo dai Alessio bravissimi alzate le mani oh 10 metri stavo spingendo bravo bravissimi dai Michele dai dai Michele dai vieni vieni dai bravo bravo Michele è arrivato anche Michele è arrivato ciao Michele guarda che c'è Andrea Michele prendi terzo posto guarda davanti guarda che è a fianco ma stai un posto al momento lo fai pure cadere 22 gui 85 franke 2 stef 84 jan 83 erman 82 barth 35 natan 100 fabian 86 danielle 87 nadine 34 iniziamo con gli italiani 34 paolo cerullo 33 chiara cerullo 32 alessandro decandia 31 stefano passaghe 30 giuseppe soggio 30 giuseppe soggio aspetta aspetta li stai chiamando però il 31 e il 30 che non ci sono 29 franco d'ambroso 28 luca cialdone 99 giovanni taras giovanni poi 24 bingio garau c'è il 24 bingio dove è sta arrivando il 90 luisella l'ervolino 90 90 luisella ah no non corre l'hai scritta 98 paolo c'è c'è sì mi mancano quelli che e dalle secche mi stanno chiedendo quando corriamo infatti par quello ci siete? sì pronti? via parado 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 il Grazie. 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 mi sta arrivando un fulmine arrivo 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 la donna la prima 33 può essere 33 33 e vabbè sì sì finire no 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 forse sì perché sono un girovante alla donna è l'ultimo giro se vi devono arrivare qua ops 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 grazie 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 Adesso poi anche non metterlo più il naso. Sì, alcuni sì, altri no.